Presidente, benvenuta a Euronews. Quali sono le obiezioni di Cipro sulla bossa d'accordo tra l'Unione Europea e la Turchia? Direi che Cipro non dovrebbe essere nella posizione di avere una tale responsabilità. Cipro ha congelato l'apertura di cinque capitoli nelle trattative per l'adesione della Turchia a causa della mancata attuazione da parte della Turchia dei suoi obblighi sul protocollo di Ankara sull'Unione Doganale. Era impossibile per chiunque aspettarsi che saremmo stati d'accordo su questo. E mi dispiace, ma lo devo dire, non c'è stato nemmeno chiesto se avessimo l'intenzione di approvarlo. Quindi questa azione viola le norme in vigore sulle trattative per l'adesione. Quando dice che non le è stato chiesto, intende dire dai funzionari dell'Unione Europea? Sì, dai funzionari dell'Unione Europea. Ed ora che cosa sta chiedendo esattamente? Da un lato la Turchia deve aprire i porti e gli aeroporti alle imbarcazioni e agli aerei ciprioti e normalizzare le sue relazioni con Cipro, cosa che non fa. Quello che sta facendo è quello di fare riferimento a un paese non esistente tramite lettere e dichiarazioni. Il peggio è che, anche pochi giorni fa, e mi dispiace doverlo dire, quando il presidente Tusk era in visita a Nicosia e sarebbe poi dovuto andare ad Ankara, lo hanno costretto, visto che non riconoscono la Repubblica di Cipro, ad atterrare prima in un altro aeroporto di un altro paese e poi andare ad Ankara e Istanbul. A parte il rilancio delle trattative per l'adesione, la Turchia ha presentato altre richieste. Tra queste c'è un ulteriore finanziamento di altri 3 miliardi di euro. Cipro intende contribuire a questo finanziamento? Noi non ci porremo, ma devo dire che non daremo i soldi alla Turchia, come abbiamo fatto prima. Il nostro contributo andrebbe ai rifugiati che sono attualmente ospitati nei campi in Libano e Giordania. Prima lei ha detto che gli altri europei l'hanno messa di fronte ad un fatto compiuto. Vuole utilizzare il diritto di veto? Ovviamente. Questo è quello che ho sottolineato agli altri partner durante il precedente Consiglio europeo del 7 marzo e durante gli incontri che ho avuto con Junker, Tusk e Martin Schulz. Cipro utilizzerà il diritto di veto. Fino a quando la Turchia non rispetterà e applicherà i suoi obblighi, non abbiamo altra scelta. Non lo scusze a tutti gli altri.